Amici di Misterino 36TV, come andiamo? Tutti bene? Casa, famiglia, lavoro, fa tutto. Non lo ricordate? Non lo ricordate? No, perché nel nostro canale la mia scaletta dove ho ricominciato a trattare, come ho detto, scusate, ricominciava tutto a capo e... per i problemi che ho avuto su YouTube. La sequenza, scusate, della mia amicona Cici. Scusate. La sequenza, scusate, di che ho andiamo. è un casino di bene è il mio secondo amore è la mia ma morire ok cosa stiamo dicendo? si stiamo dicendo che come ho detto anche nell'altro video ho avuto problemi vediamo di cominciare dal capo vabbè questo è quello ci voglio far lavorare ci voglio far mettere e caricare sempre video questo è il nostro lavoro diciamo non è tanto per me un lavoro ma è come è per me un hobby che mi piace moltissimo caricare fare video adesso visto che è una mia lezione che ho imparato a non caricare video di altre cose questo inverno è stato lungo un po' lungo e se vogliamo dire io parlo di Torino eh con meno nevicate degli altri anni da parte 2006 qua Torino avevamo l'inverno non era inverno ma era quasi estate avevamo avevamo una temperatura di gennaio gennaio signori 15 gennaio alle 22 mi ricordo era 18 gradi ragazzi davvero mi ricordo benissimo avevo avevo la mia opera cosa che mi segnalava i gradi esterni 18 gradi 15 al 15 gennaio ragazzi vi ricordate era l'anno era l'inverno più caldo che c'è mai stato infatti mi ricordo che non c'era nessuna nevicata perchè se se fa caldo non non nevica avete mai visto una una nevicata per agosto l'inverno la primavera come si dice non c'è più la primavera è vero non c'è più però quest'anno abbiamo molto dei sbagli incredibili di temperature proprio mostuose roba da da chi soffre poveri di cuore avere queste sbalzi così fa male fa male fa male alla salute fa male al corpo fa male alla ai bambini sono anche i bambini pensare che i bambini faccia bene faccia bene tutta questa cosa qui poi c'è l'estate l'estate è uno che va in milleggiatura va montagna mare uno dice all'altro dove vai questa normale e l'altro dice no non vale nessuna parte sulla casa le amiche la moria non ha ferie i soldi sono pochi i bambini hanno tribunale non vale nessuna parte invece poi cose 20 30 40 km sull'autostrada italiana ma però non deve andare al mare no no più però le cose ci sono sempre eh il lavoro non c'è però se armare in spiaggia tale questa è tutta una mia cosa una mia opinione che non andiamo a dire tanto se no me lo chiudo anche questa volta il canale poi passiamo all'autunno l'autunno anche qua è come la primavera fa un po' finire anche non c'è più l'autunno l'autunno è solo un simbolo delle foglie cadute in un albero questo è l'autunno io mi ricordo la piccola che dice che disegnavamo l'autunno no? cioè le stagioni l'inverno la neve perchè la neve cade l'inverno l'ottimavera il fiore che sboccia la l'estate 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 il mare i bambini che giocano a pallone ehm perdono l'inverno e la produrlo i alberi quasi spogli le foglie per terra qualche foglia che cade l'estate l'estate eh vabbè 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 non mi tormento più tanto ciao vabbè 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 vabbè